amici di sport legnano siamo al palavolle e questa settimana sono ricominciati gli allenamenti della focol e quindi chi meglio di coach luigi huma nostro grandito ospite già 2000 volte facciamo 2001 buonasera coach buonasera buonasera a tutti allora si è appena concluso il secondo allenamento però prima di parlare di questioni tecnico tattiche cosa si prova a ricominciare dopo tutto il gran casino che c'è stato ma sembra quasi che non sia successo niente cioè che non abbiamo mai smesso perché le ragazze sono molto entusiasta entusiaste e anch'io per cui secondo me stiamo un po cancellando questa questo brutto incubo ovviamente cercando di ricordare che le cose che bisogna fare per non ricadere certo quindi precauzioni e cose varie quindi un allenamento in tempo di covid quante cose limitate a rispetto a un allenamento normale no direi che non possiamo troppo limitare l'allenamento bisogna prestare soltanto più attenzione e basta non possiamo stravolgere completamente quello che è la preparazione fisica perché lo sport è sempre sport non è che è cambiato prime impressioni due allenamenti va verso non niente ovviamente però vede un gruppo che risponde bene tutta attente tutte così un bel gruppo sicuramente quando hai più della metà del gruppo confermato e degli innesti che comunque sono con si conoscono tra di loro si può lavorare per creare un bellissimo gruppo lo cercheremo di farlo insomma allora uno sguardo al futuro immediato il campionato ancora molto lontano diciamo quindi adesso ci sono due mesetti di preparazione quanto le fa lavorare queste ragazze allora ti dirò che no ci siamo cioè mi sono preso un tempo diverso rispetto agli anni scorsi gli anni scorsi era molto più concentrato quest'anno ho voluto fare cose diverse allenamenti diversi quindi faremo sicuramente pesi e ho aggiunto piscina sabbia cerchiamo di variare ho introdotto delle nuove metodologie per cui secondo me non si annoieranno e perché poi appunto avendo il campionato così lontano bisogna tenerle abbastanza motivate nell'allenarsi bene suona come un bel programma e allora sa che le dico che ci rivediamo molto presto per un'altra bella intervistina va bene siamo qua anche le ragazze sono contente di essere intervistate per cui infatti non scapperanno alle nostre maglie mai va bene grazie coach buonasera a tutti grazie